Era inevitabile che con il mare agitato di ieri si verificassero delle ripercussioni nelle zone più delicate, più particolari del territorio messinese. Qui siamo a Sant'Aga da Miritello, prosegue l'erosione della zona del lungomare in assenza di barriere e in assenza anche degli interventi che sono stati programmati, sia quello generale che deve predisporre la regione come anche quello che deve predisporre anche la città metropolitana di Messina. Si è infatti in attesa dell'intervento definitivo da parte della regione, a seguito degli incontri che il sindaco di Sant'Aga da Miritello, Bruno Mancuso, ha avuto con Maurizio Croce e con l'assessorato regionale Territorio e Ambiente. Nello stesso tempo deve provvedere anche la città metropolitana di Messina perché quel tratto di lungomare interessa una strada provinciale. Infine, alla luce dei dati oggettivi e di quanto si può notare in questa parte della costa, ogni volta che il mare è imperversa, in assenza di barriere protettive, provoca disastri. Dunque, a prescindere dalla regione e l'ex provincia, qui si deve procedere con un intervento tampone, una sumorgenza, realizzando una barriera o alcuni pannelli che allontanino la furia delle onde del mare. In assenza di questo, il lungomare in direzione Messina rischia di essere travolto e i segni, oltre i due accendimenti che si sono verificati svariati mesi fa e ieri, sono incontrovertibili. Grazie.